Ciao! Ottimo allenamento! Dobbiamo rifarlo presto! Ciao, Barbie! Oh, ciao, Chelsea! Ciao, Barbie! Che cosa avete fatto? Solo un po' di pratica con la magia. Oh! Qualche incantesimo non riuscito. Ci vorrà molto tempo per mettere in ordine. Non puoi usare la magia? Mi piacerebbe, ma non posso usarla per annullare gli errori dell'allenamento. Barbie, apprendista regina, c'è qualcosa che ho dimenticato di dirti. Miau! Che confusione! Sistemerò tutto, Melky! Cosa stavi dicendo? L'ispettore reale arriverà qui tra un'ora per esaminare il castello, quindi forse dovresti, sai, sbrigarti a mettere in ordine. Un'ispezione reale? Oggi! Non preoccuparti, Barbie, ti aiuterò a pulire. Nuovo piano! Tu inizi a lavorare, io andrò a cercare aiuto. Aspetta! Basta faticare! Su Chelsea puoi contare! Cosa hai portato? Ti presento il tuo nuovo aiutante, che tutto farà brillare! Ta-da! Hai costruito un robot? Sì! Indovina qual è il suo nome! Eh, signora pulizia brillante? No, Shelby! Chelsea più Barbie! Capito? Shelby! È adorabile! Benvenuto al castello, Shelby! Proviamolo adesso! Puoi pulire l'intera sala principale senza di noi? Shelby! Pulisce sala principale! Pensi davvero che andrà tutto bene? Non preoccuparti, Barbie, la situazione è sotto controllo! Adesso andiamo a preparare i tramezzini. All'ispettore reale piacerà sicuramente questo al cetriolino Non quanto quello al limone Ed è tutto merito del tuo grande impegno Anche del tuo E non dimenticare l'aiuto di Shelby Grazie a lui a noi resta la parte più divertente Mi dispiace interrompere la vostra merenda Ma ho pensato che dovreste saperlo C'è una piccola emergenza È una vera emergenza Shelby, che cosa stai facendo? Fermati Chelsea, stai attenta Dove andate? Ma questo è un vero disastro reale Non capisco che cosa sia successo Pensavo di aver costruito Shelby in modo perfetto Mi dispiace tanto, Barbie Non preoccuparti Possiamo pulire tutto con le nostre mani Alla vecchia maniera Abbiamo ancora un po' di tempo Prima che arrivi l'ispettore Forse non vi ho detto che è quasi arrivato Cosa? Notto può intrattenere l'ispettore Io non centro niente con questa storia Ma vedrò cosa posso fare Vieni con me, Melky Stavo solo cercando di semplificare il nostro lavoro Lo so Ma a volte la cosa migliore è darci dentro e finire in fretta Coraggio, Chelsea Iniziamo Avete bisogno di aiuto? Ciao, Re Elefante Sì, ne avremmo bisogno Fantastico Adoriamo fare le poesie Grazie a tutti per l'aiuto Finito Appena in tempo L'ispettore reale è qui L'ispettore reale è qui Il mio lavoro è finito Buongiorno, ciao Benvenuto Siete stato puntualissimo Mi piace essere puntuale Da dove volete iniziare l'ispezione? In realtà è già iniziata Un castello deve essere accogliente con tutti coloro che lo visitano Sono rimasto molto impressionato dalla vostra deliziosa accoglienza Alla porta d'ingresso Deliziosa accoglienza Ma sì Il portiere robot è là fuori Portiere robot? Sì Il cordiale Shelby È un preziosissimo membro del personale Grazie Shelby Ecco Desiderate visitare altro? Ho visto tutto quello che dovevo Credo che assegnerò al castello della montagna brillante Un triplo cristallo per l'accoglienza Ho, 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 ho Non davvero più forte росballo Che cosa neighbour Stiamo aspettando te Quindi datemi qua